New York, 1896. Lo psicologo Laszlo Chrysler viene ingaggiato dal commissario di polizia Theodore Roosevelt per catturare un killer di ragazzi senza tetto. La narrazione porterà il fruttore nei meandri delle psicopatologie e della devianza sulle cause delle marginalità esistenziali che comunque sono sempre dietro l'angolo, che sovente si innescano anche per una banale giornata andata storta. La serie nel complesso parla di questo e molto di più, con una tale raffinatezza e ferocia da rendere il tutto un capolavoro.